Grazie, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io dico poche cose, la prima è questa, sono arrivata da pochissimo, la maggior parte di voi lo sanno, però è con grande orgoglio che sono qui stasera perché spesso la scuola viene maltrattata un po' da tutti, pensando che all'interno della scuola si faccia soltanto attività di routine, in realtà non è vero, all'interno della scuola ci sono tantissime intelligenze fra i docenti ed è per questo motivo che poi i nostri ragazzi crescono così bene e diventano poi le grandi intelligenze di cui sappiamo. Il secondo motivo di orgoglio è che uno degli autori di questo testo è una docente dell'infanzia che tra tutti gli ordini di scuola forse è quello più bistrattato perché non si dà particolare importanza, al contrario invece proprio nella fascia dei più piccoli, quella 06 che solo da poco adesso la legge sta prendendo in considerazione e la fascia in cui c'è il massimo degli apprendimenti. Quindi un'opera come quella fatta dalle nostre autrici che tende a porre l'attenzione su questa fascia di età la dice lunga sul fatto di quanto sia importante far passare determinati concetti di base a bambini così piccoli. E poi una cosa che mi ha colpito